La spending review non risparmia neanche la scuola e a brindisi con la provincia commissariata intenta fare il più possibile economia a pagarne le conseguenze sono gli alunni spostati qua e là come fossero le pedine di una scacchiera. Ad essere interessate addirittura 8 scuole brindisine con gli alunni che con molta probabilità dovranno cambiare sedi già a partire dal prossimo settembre. Il problema investe principalmente il liceo scientifico Fermi e l'ITIS Majorana ospitati entrambi in affitto in edifici privati. Affitto che a partire dai prossimi mesi non sarà più emesso dalla provincia e costringe di fatto a trovare una soluzione. Così il riordino delle scuole secondo le prime indiscrezioni vedrebbe lo spostamento delle classi dello scientifico Fermi in parte divise nello scientifico Monticelli e al secondo piano del geometra Belluzzi che oggi ospita le prime classi del nautico Carnaro che sarebbero sfrattate. Le classi dell'ITIS Majorana sarebbero traghettate in parte nell'ITC Flacco e nel professionale Morvilo Falcone con le prime classi del nautico Carnaro che dopo 8 anni lasciando il Belluzzi sarebbero spostate definitivamente al professionale De Marco. Insomma una rivoluzione che se in alcuni casi risolve la situazione in altri la complica ed è proprio il caso del nautico Carnaro che nella situazione in cui si andrebbe a trovare ha riscontrato già criticità importanti. I problemi seri sono due. Uno che i ragazzi devono per raggiungere il De Marco e tornare a frequentare i laboratori percorrere una strada che sappiamo benissimo essere fonte di rischi continui, incidenti, gli incidenti non si contano. I ragazzi dovrebbero percorrerla su un marciapiede molto stretto. Calcolando i tempi piegherebbero circa 20-25 minuti tra andare e tornare per cui un'ora di laboratorio sarebbe praticamente vanificata e idem un'ora di palestra. Questo comporterebbe chiaramente da parte delle famiglie il non veder riconosciuto il diritto all'apprendimento dei figli che devono fare 32 ore di attività settimanale compresi i laboratori. In pratica i docenti di laboratorio non potrebbero neanche svolgere il loro ruolo. Quindi questo porterebbe purtroppo a una perdita di specificità del nostro indirizzo. Io mi sono permessa anche di sottolineare questo alla presenza del commissario. Noi siamo un istituto che serve tre province e abbiamo la nostra specificità. Ridurre il tempo dei laboratori o addirittura vanificarlo perché i docenti potrebbero anche rifiutarsi di accompagnare i ragazzi su quel tratto di strada, significherebbe impedire l'offerta formativa e far sì che una famiglia anziché scegliere la nostra scuola con i disagi che ne conseguono, o pendolarismo e quant'altro, preferisca un qualunque tecnico. Io penso che questa scuola sia un bene per il territorio brindisino, per la vocazione di questo territorio e vada tutelata con particolare attenzione. Chiaramente come tutte le altre, però ripeto, facendo attenzione al fatto che non si può dire a una famiglia c'è un'altra scuola come questa a 20-30 km. Ci siamo noi e devo dire che se in questi anni l'utenza è aumentata, le classi prime aumentano, forse è il segno che stiamo lavorando bene. Il 26 giugno la provincia ha preannunciato una decisione che avrebbe maturato in questo periodo e che riguarda lo spostamento delle scuole che attualmente occupano degli immobili in affitto. In particolare il Fermi prima e il Maiorano dopo. Naturalmente come un effetto a cascata questo tocca anche altre scuole, in particolare la nostra. Noi dal 2006 in effetti abbiamo le nostre prime ospitate presso l'edificio del Belluzzi che è qui praticamente nei pressi. Non è stata neanche quella una conquista facile perché in effetti due anni fa nuovamente ci fu fatta la richiesta di spostare le classi presso il De Marco. Devo dire che grazie alla sensibilità dimostrata dall'allora presidente dell'amministrazione provinciale del presidente Ferrarese abbiamo ottenuto con una delibera di poter occupare il secondo piano dell'edificio e questo ci ha dato anche una certa tranquillità per cui abbiamo affrontato anche alcune spese di un certo impegno spese che abbiamo potuto fare grazie alle tasse anche pagate dai genitori e dai nostri ragazzi che ci hanno consentito di ristrutturare bagni, di pitturare aule, di arredare le stesse aule. Naturalmente adesso sembrerebbe tutto nuovamente in discussione. Le prime dovrebbero spostarsi presso il De Marco dove c'è la disponibilità delle aule. La richiesta sarebbe di mantenere per quest'anno la situazione e lo status quo e possibilmente, perché questo è stato richiesto già più volte, di avere la costruzione di un numero di aule sufficienti, visto che gli spazi ci sono, qui nel cortile della scuola. Così potremmo liberare definitivamente altri edifici che rimarrebbero nella disponibilità dell'amministrazione.